Questa vittoria serve a restare attaccati al treno promozione, ci saranno i recuperi, è importante far punti anche e soprattutto con le squadre di medio-bassa classifica. Assolutamente, sono d'accordo col mister, è quello che ci diciamo ogni giorno noi, noi dobbiamo pensare a noi stessi, a far bene. Era una vittoria importante questa da fare, l'abbiamo fatta, pensiamo al nostro cammino, pensiamo a far bene noi e poi vedremo dove arriveremo. Minima Speranza, un'altra stagione con la S maiuscola? No, sono venuto in questa società come dicevo all'inizio, una grande società seria che fa calcio da tanti anni, cerco di dare il mio apporto a tutti i ragazzi, soprattutto i giovani, a portare la mia esperienza, metterla in pratica sul campo e dare tanti consigli e speriamo di continuare a far bene, tanto come sempre vale solo la squadra, tutto ai fini della squadra.